CQ80, 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 Italia Italia 5, Lima Delta Vittoria, chiamata speciale per il trentunesimo diploma Leonardo da Vinci, valevole 5 punti. Italia Italia 5, Lima Delta Vittoria, QR 0. CQ80, 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 Italia Italia 5, Lima Delta Vittoria, chiamata speciale per il trentunesimo diploma Leonardo da Vinci. Italia Italia 5, Lima Delta Vittoria, QR 0. L'ho chiamata, stazione speciale. CQ80, 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 Italia Italia 5, Lima Delta Vittoria, chiamata speciale per il trentunesimo diploma Leonardo da Vinci. Valevole 5 punti. Italia Italia 5, Lima Delta Vittoria, QR 0. CQ80, 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 Italia Italia 5, Lima Delta Vittoria, chiamata speciale per il trentunesimo diploma Leonardo da Vinci. Valevole 5 punti. Italia Italia 5, Lima Delta Vittoria, QR 0. CQ80, Italia Italia 5, Lima Delta Vittoria, chiamata speciale per il trentunesimo diploma Leonardo da Vinci. Valevole 5 punti. Grazie.